dominio prendiamo gli obiettivi prendiamo alfa tiro una granata in mano nostra c in mano nemica in mano nemica così non passiamo prendiamo bravo nonostra perdiamo b arriva una granata Colpo a segno Siamo passati in vantaggio Abbiamo perso, bravo Prendiamo, bravo Abbiamo perso il comando Lancio una granata Siamo in testa Perdiamo, bravo Il nemico ha brato Dovulcisioni confermate Aereo spia a disposizione Aereo spia in zona Prendiamo Charlie Aereo spia al 50% di autonomia Mi dispiace Aereo spia in zona Perdiamo B Ci allontaniamo Ci allontaniamo Catturiamo B Bravo, sotto controllo Prendiamo Charlie La vittoria è in vista Avanti così Perdiamo A Zona in sicurezza Mantenere la posizione Perdiamo C Siamo a metà Confermo Inversione parti Catturiamo Catturiamo l'obiettivo Catturiamo l'obiettivo Prendiamo Charlie Mi occupo dell'obiettivo Catturiamo Catturiamo l'obiettivo Catturiamo l'obiettivo Siamo in vantaggio noi Ho preso Alpha Perdiamo C Perdiamo C Tira una granata Catturiamo Alpha Ci stanno dominando Dobbiamo reagire A è in mano nostra Prendiamo Charlie Prendiamo B Stordente partita Tutte le zone conquistate Restate in posizione Hanno preso A Torretta robot ostile attiva Lancio una Perdiamo Bravo Lancio una granata Prendiamo Alpha Perdiamo Charlie Aereo spia in attesa Catturiamo A Tira di prossimità distrutta Sulla zona Prendiamo Bravo Approvvigionamento ostile in arrivo Persona C Aereo spia in attesa Prendiamo Aereo spia rilevata nell'area operativa Tira di prossimità distrutta Perimetro aereo spia stabilito a quota di bitmina Per Benga leh oder Per Benga Pergiamo Perdiamoapra Prendiamo Prendiamo Aereo di contruzionaggio. Aereo spia, 50% di autonomia. Tacco, riserva l'aereo più. Nemico cancellato. Aereo spia, aereo spia, aereo uno. Ragazzi! Tiro una granata! Tiro una granata! Torniamo in base! 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 Posso? Qui Price! Mandate un elicottero di supporto! Torniamo in base! Torniamo in base! Avete la copertura aerea richiesta! Torretta robot nemica rilevata nell'area operativa! Perdiamo Charlie! Tiro una granata! Torniamo in base! Basta! Torniamo in base! Torniamo in base! Sereo a sc�' Torniamo in base! Torniamo in base! Prendiamo B. Corretta robot nemica rilevata nell'area operativa. Fine operazione di supporto. Avalancio 1 chiude. Chiaro avalancio. Tiro l'armato. Sotto controllo. Corretta robot attivazione. Ma è cosa fatta? Chiudiamo la faccenda. Lancio una granata. Aereo spia nemico in arrivo. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Abbiamo finito. Bel lavoro. Granata partita. Granata partita. Calata partita. Un�다� bat. Un� Star Citizen. Grazie a tutti. Grazie a tutti.